E' a Nisida, o come la chiamavano i greci Nesis, la piccola isola, che ha sede l'Istituto Penale dei Minori, che oggi accoglie circa 30 ragazzi e 10 ragazze di età compresa fra i 13 e 21 anni, tutti sottoposti a provvedimenti di natura penale o amministrativa. Le attività svolte dagli educatori dell'Istituto Penitenziario sono finalizzate alla rieducazione e all'inserimento dei ragazzi nella società, una volta concluso il periodo di detenzione. Nisida deve rappresentare una risorsa per questa città. Qui noi abbiamo i nostri ragazzi che si sono trovati anche in situazioni estremamente difficili ma che devono essere assolutamente supportati, aiutati a costruire poi le basi per il loro futuro. Deve essere un luogo quindi, come spesso poi mi ritrovo a dire, di costruzione, un luogo dove si creano delle risorse affinché poi i ragazzi abbiano una volta usciti di qui la possibilità di costruire davvero il loro futuro. Lo scopo è quello di far acquisire ai ragazzi modelli comportamentali non violenti e a canalizzare la loro aggressività e allo stesso tempo lo sviluppo di abilità e interessi che potranno utilizzare una volta usciti dal carcere. Nisida e l'Istituto Penale Minorile è un posto, è un luogo dove non è il momento dell'odio e della punizione ma è il momento dell'amore. L'amore nei confronti di quei ragazzi che dalla culla hanno avuto negati elementari diritti dell'adolescenza e dell'infanzia. A Nisida c'è un modello che deve diventare un modello sempre più operativo per quei ragazzi ombra, quei ragazzi che non sono a scuola, non sono ancora a Nisida ma sono nella nostra città e stiamo qui raccontando lo sport che si realizza. È necessario individuare degli strumenti, degli strumenti che possano educare dei ragazzi delle pratiche di essenza e non di apparenza, quindi quell'apparenza che porta non soltanto a compiere un reato ma porta anche a un ragazzo a essere un ragazzo vuoto, non attento, non impegnato, un ragazzo magari non eccellente nella scuola. I ragazzi vengono infatti coinvolti in varie attività di formazione professionale. Al momento sono attivi laboratori di ceramica, di pasticceria, di animazione teatrale e musicale, di edilizia e falegnameria, di sartoria, un laboratorio di scrittura e tanti progetti sportivi. In particolare quest'anno parte il progetto Terzo Tempo, grazie anche all'impegno dei volontari della WISP che prevede di aumentare gli spazi fruibili per attività sportive all'interno degli istituti e quindi la possibilità di tante nuove attività sportive per i ragazzi di otto strutture penali minorili italiane, tra cui Nisida. Lo sport riesce a ribaltare dei principi e dei valori. Ecco mi ricordo una frase di un ragazzo che ci disse qualche anno fa in delle attività sportive a Nisida, occorre batte più prima a scendere in campo che quando andavo a fare una rapina. E quindi sono queste le attività dove il Comune di Napoli si sta impegnando tanto per farle crescere e per farle realizzare soprattutto nell'istituto penale minorile di Nisida, ma anche e soprattutto fuori. Lo sport, il basket, ma anche la palla a nuoto, la cura del proprio corpo. I ragazzi di questa città meritano sempre più attenzione, sempre più impegno in questa direzione.